ciao ragazzi allora qui sono sempre a El Nido sull'isola di Palawan e quello che vedrete di seguito è un'escursione che ho fatto alla splendida spiaggia di Nakpan che dista circa un'ora di strada fatta con il mototaxi guardatela ciao 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 ora guardate le unghie di questo tassista di mototaxi che mi sta portando in spiaggia ah se poi dovesse venervi la nostalgia del cibo italiano che ci può stare in una vacanza nella clip che segue vi lascio il nominativo di una trattoria che c'è al nido dove si mangia da dio il problema è che poi non riuscirete più a resistere nelle sere a seguire ok ciao buona cena questa è un'altra escursione che ho fatto che durava tutta la giornata è stata fatta alle isole vicine alle spiagge vicine al nido che però abbiamo dovuto interrompere circa metà giornata perché una turista polacca che era in barca con me è stata accidentalmente punta da una tracina che era sotto la sabbia e quindi siamo dovuti tornare immediatamente al nido ciao 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 e questo è il punto esatto in cui si trovava questa famosa tracina nascosta sotto la sabbia invisibile e quindi tutti siamo scesi per andare alla piccola spiaggetta che c'era lì e purtroppo la turista polacca ci ha messo il piede sopra ed è stata punta e il barcaiolo ha individuato il punto dove era questa tracina con il coltello da sub è andato la infilzata e la tirata fuori ed era una bella bella grossa con i quattro pungiglioni sopra la schiena e da qui è finita la nostra escursione e 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